Brutta sorpresa per un anziano nisseno che appena ha rientrato in casa ha trovato la porta aperta e due ladri all'interno, riconoscendo in uno di loro il nipote. Ad intervenire in via Xiboli i poliziotti della sezione volanti, chiamati dal pensionato, che ha raccontato così come poco prima avesse sorpreso due giovani che si erano introdotti in modo fraudolento nell'abitazione dove attualmente non risiede. L'uomo infatti abita con una nipote. Entrambi i giovani che scoperti sono scappati sono minorenni e uno di loro è il figlio adottivo di una delle sue figlie che abita ad Enna. Il nipote 15enne è stato fermato in via Santo Spirito a precedenti di polizia per fusto, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e attualmente si trova ricoverato in una comunità terapeutica nissena dalla quale si era allontanato e insieme ad un altro minore ancora sconosciuto ha deciso di recarsi nell'abitazione del nonno che sapeva essere disabitata. Dalla perquisizione personale celata nella tasca anteriore del pantalone sono emersi inoltre due involucri di cellofan contenenti in marijuana per i quali è stato segnalato alla locale prefettura. Il minore è stato denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento aggravato, successivamente è stato ricondotto alla comunità terapeutica.